che succede in Ducati Factory nel 2024 dipende da chi vince la domanda giusta è che succede se vince Martin ecco questo questa è la domanda giusta sappiamo abbiamo detto che il team factory tende a vincere che non ha mai vinto un team privato però la situazione si sta mettendo in un certo modo e quindi potrebbe ipoteticamente anche succedere che succede se vince Martin eccolo qua eccoci qua ciao da mister Helmet la copertina è questa dipende da chi vince poi vi spiego perché il mondo è diviso così a metà allora l'unica cosa è che vi dico subito mi levo il pensiero se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale attivate le notifiche e scoprite come potete supportare mister Helmet con lo shop le donazioni i super stickers e super grazie e soprattutto l'abbonamento a partire da tre centesimi al giorno mi fa piacere se vi iscrivete anche senza abbonarvi però l'abbonamento mi sostiene un po di più insieme alle altre iniziative sugar daddy super supporter hanno la chat broadcast con cui facciamo le nostre chiacchiere le nostre anticipazioni vi mando i link direttamente e tutto il resto benissimo allora adesso vediamo cosa succede qui nelle varie situazioni ok allora abbiamo detto che ducati tendenzialmente ha sempre visto ma non solo ducati ha sempre visto vincere i team factory non è mai successo che un team privato abbia vinto il mondiale piloti della moto gp fermi tutti il team 2001 nastro azzurro di valentino rossi non era propriamente un team privato anzi non lo era per niente era in realtà una copia anche migliorata del team factory hrc con tutti gli uomini di duan tutti i mezzi di duan e soprattutto due piloti che potevano vincere veramente mentre il team factory era affidato per politica per tante situazioni a due giapponesi che non potevano vincere quindi diciamo che quello fu un caso di un doppio doppio team factory però diciamo erano anche altri anni queste cose non sono più successe allora io vi faccio vedere cosa può succedere abbiamo detto che ducati tende tenderà a far vincere a far vincere a impegnarsi in modo che il team factory vinca e quindi in teoria dovrebbe vincere bagnaia ok però abbiamo anche visto che la situazione non è proprio così netta a favore del pilota ufficiale e che martin è in un momento di grande forma non è escluso che bagnaia faccia l'unica cosa che può fare un pilota factory per perdere un titolo cioè perderlo lui fare delle fesserie altre sono va bene altre situazioni sono gli infortuni tutte queste cose qua cosa che noi non vogliamo non auguriamo e non succederanno però diciamo che quello che può succedere è che bagnaia lo perda lui mettendoci del suo per nervosismo o per altre situazioni bene allora abbiamo detto abbiamo detto che queste sono cause eccezionali ma mai come quest'anno si avviano a succedere tenete conto che questo video è registrato prima di sepang e quindi sono ipotesi supposizioni come lo sono sempre allora vediamo cosa succede cosa succede se vince situazione numero uno vince bagnaia in un paesaggio bucolico in un paesaggio in cui tutto è felice verde sereno vince vince bagnaia ok e allora cosa può cosa può succedere può succedere che rimane tre opzioni alla situazione numero uno vede tre possibilità possibilità numero uno tutto rimane come prima bagnaia rimane nel team factory martin sconfitto rimane nel team pramac sarà premiato per l'ottimo lavoro e tutto il resto accanto a bagnaia rimane come da contratto bastianini ok situazione numero due bagnaia vince il titolo ma martin gli rende la vita veramente difficile è un numero uno fa un super lavoro e quindi anche per il rendimento di bastianini vince vince bagnaia e viene affiancato martin al posto di bastianini ok va bene la terza opzione vede martin che rimane in pramac ma con una situazione di più soldi più attenzione e un contratto magari per il 2025 con un'opzione con più soldi con una situazione del genere ok tenete conto che stiamo parlando del 2024 perché nel 2025 abbiamo già fatto un'ipotesi abbiamo già preso in mano la situazione su un altro video che vi linko in cui si parla di mark market cosa che secondo me è impossibile non che ci vada attenzione è impossibile parlarne adesso e lo scoprirete anche perché oltre alle cose che ho già detto nel video che vi linko benissimo vediamo la situazione numero due in un paesaggio affatto bucolico per niente bucolico ma anzi in una situazione tipo distruzione totale guerra dei mondi crateri brivido terrore raccapriccio vince martin vince martin e ho messo questa situazione come oscura perché di fatto di fatto questa è una situazione molto grave per ducati per ducati factory perché per quanto vinca una ducati per quanto da linea sia contento l'abbiamo già detto da linea è un uomo che comunque a lavorare ci va vestito di rosso per cui è vero i piloti sono tutti sotto contratto ducati è vero la moto l'ha disegnata gigi ma gigi è vestito di rosso dovrebbero spiegare in ducati il senso il senso di fare un team factory con tutto quello che ne deriva da punto di vista dell'impegno eccetera e poi veder vincere un team un team privato con le moto factory perché che se ne voglia dire pramac non è un team factory potete menare il torrone quanto vuole quindi ducati quelli vestiti di rosso dovrebbero spiegare a bologna cosa vanno a fare in giro per il mondo e quindi comunque delle spiegazioni le dovrebbero dare le dovrebbero dare anche a lenovo per esempio uno dei tanti sponsor che paga molto di più per essere sulla carena delle moto rosse che sono le migliori ducati possibili in questo caso non sarebbe così vediamo le opzioni quali sono martin si porta al numero uno in pramac e questo è molto bello per campi noti io sono contento martin è contento il suo meccanico ma iarno polastri è contento i suoi romagnoli è contento però c'è un problema in ducati molto grave cioè il numero uno su una ducati sì ma non rossa prima opzione seconda opzione martin martin viene prelevato da pramac e messo nel team factory insieme a bagnaia al posto di bastianini scenario brutto per bastianini dopo parleremo anche di questo terza opzione per qualche motivo a martin non danno quello che vuole quindi lo fanno incazzare come già l'anno scorso si è incazzato non gli danno i soldi oppure lo lasciano in pramac senza dargli più soldi non lo portano in factory lo portano in factory ma gli danno meno non gli danno i soldi insomma quali manca qualcosa manca qualcosa martin non ha quello che vuole e si incazza si incazza come solo martin può fare come solo uno guerriero una roba da non mi ricordo bene e si incazza e se ne va va in onda così va in ktm fa una roba va in aprilia va in aprilia si porta via il numero uno succede un casino succede un doppio casino perché ducati factory perde perde il titolo lo vince una privata una squadra privata e perde anche il numero da fuori dalla ducati succede una roba così brutta e adesso quindi guardate la situazione non è affatto facile quindi rendetevi conto che per il quieto vivere per la città del romanticismo al di là dei giornali che scrivono al di là di tutto a livello aziendale industriale sportivo organizzativo delle coronarie di paolo ciabatti del benessere di tutti quanti c'è la convenienza che vinca vinca bagnaio questo non vuol dire che faranno delle dei complotti eccetera io questo non voglio dire io sto analizzando la situazione da fuori e adesso c'è la situazione bastiani che con gigi che guarda nell'angolino si trova su un vicolo oscuro e buio che per me l'ho già anticipato lo vede fuori da ducati comunque nel 2025 ve lo posso garantire insieme a bezzecchi che però avrà altre strade probabilmente andrà in aprilia sono quelle persone che non sono destinate no ad andare in nel team ufficiale come è successo anche a bassani bravissima e tutto il resto ma che alla fine li passano sempre davanti qualcuno in questo caso la situazione di bastiani è oscura io ho sentito ho letto le dichiarazioni del suo manager per nat che dice a non c'è assolutamente questa possibilità ci sono i contratti è vero che non si possono rompere però vorrebbe dire tanti problemi di qua di là però non credo che possa succedere in ducati non sono né gente che si alza la mattina e fa ste cose ok come vi pare però a me sembra paura questa cioè se martin vince un campionato e vuole andare in ufficiale ci va se voglio dire c'è una situazione in cui martin strapazza bagnaia oppure minaccia di andarsene oppure lui ci va e bastiani continuano a fare male così il posto lo perde trovano un sistema lo risarciscono non è quello il problema e quindi non è educati gente che si alza questa è una roba che non ha senso e non ha senso perché parlando con ducati nello specifico paolo ciabatti a me la risposta che è stata data a me è quella di bastia quale non abbiamo ancora iniziato a discutere questa questa frase che vuol dire un sacco di cose non vuol dire sicuramente che bastianini è fuori ma non vuol dire nemmeno che come dice il suo manager problema non si pone il problema si pone perché se la se il tema viene definito delicato e se si parla di doverne discutere vuol dire che non è affatto scontato che bastianini resti in ducati fino alla scadenza del suo contratto possono essere trovati mille modi mille scuse mille spiegazioni mille risarcimenti mille aggiustamenti che devono vedere il duo bastianini per nat suo manager solo subire cioè non penso che vi siano altre possibilità per vedere una roba del genere attenzione a questo va ricompensato anche pramac per l'eventuale perdita di martin oltre a questo si può considerare l'ipotesi della terza moto non l'ho scritta perché mi sembra un'ipotesi peregrina ok quindi quello che vi voglio dire è che a per l'equilibrio mondiale conviene che vinca bagnaia b la vittoria di martin potrebbe essere pericolosa tanto quanto la sua insoddisfazione al di vittoria sconfitta tre vedo bastianini in grossa 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 crisi e difficoltà e lo potrebbe salvare ma non è detto ma lo potrebbe salvare più una vittoria di bagnaia che una vittoria di martin ok ciao da mister